Il gioco del Bussolotti, il gioco più antico della magia. Qual è il punto? Tutte le volte che si tocca con la pacchetta, la pallina, questa scompare. Sono sette i concorrenti del club magico pugliese che con ammirevole spirito di gruppo puntano ad arrivare al congresso San Vensan per provare poi a vincere il campionato italiano di magia. Questo è il primo campionato italiano di magia e stanno rispondendo benissimo il circo di tutta Italia e siamo felici e onorati di essere qui a Bari perché un neonato circo che ha solo due anni è riuscito a radunare ben 10 giovani aspiranti artisti di ottimo livello che in qualche modo stanno proponendo grande magia proprio qui in provenienza dalla Puglia. Questo è il lasso, pensate alla tua casa scelta, io l'ho messo lì da parte, quindi sei qui, che cosa c'è? Puoi girare tu stessa a mostrare in camera? In nove di quadri Grazie Come hai iniziato e soprattutto perché? Mi regalarono un Natale, la scatola di Silvan, poi ci sono stati una serie di eventi a catena che mi hanno portato qua oggi. Stefano è già vincitore dell'edizione 2009 del trofeo Arsenio di Roma, una delle più importanti manifestazioni magiche in Italia. Sono una quarantina, gli aspiranti maghi pugliesi iscritti al club presiduto da Roberto Muci e hanno un'età che va dai 10 agli 80 anni. Ospite d'eccezione della selezione barese Walter Rolfo. Un famosissimo illusionista e anche detentore del Guinness dei Primati che ha fatto uscire 300 conigli da un cilindro, come ha fatto? Abbiamo liofilizzati tutti e poi abbiamo detto in realtà 300 conigli, detti così non sembrano molti, ma se ci pensate sono quasi 2 kg l'uno, quindi sono 600 kg di coniglio e quasi più di una 500. Perciò è stata una grande magia che abbiamo fatto nel precedente congresso, quindi nell'altra edizione. Grazie a tutti.